musica 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 non si gente a l'ho chiesto loro hanno chiesto hanno chiesto a te dac io per l'altro dice iait te lo hanno chiesto Tu chi eri? Chi eri? E tu che c'hai? E' una vitrovia, voglio ricordare Santa Maria Santa Maria Capoetere Ah, al semaforo scende di diritto a destra Bene, il primo è giù a destra No, scende di là, di là 300 metri in giù C'è il semaforo a destra Manila, lei che cosa ne pensi del Napoli? Un bello scudetto Ehi, è quello che faccio Si doveva fare l'intervista E poi è quello, è quello, è quello E tu la riesci E dopo mi rega con il Cusarello Ma c'è con il Cusarello E tu la busco qualcosa per fare l'intervista Dai non la busco niente E allora perchè mi la fai l'intervista Gesù Madonna Allora il Napoli non ti piace? Mi piace buon'altro Eh, ma come stai facendo la parola? Forse sto facendo niente No, io non penso a me questa E sto parlando Ma sto facendo niente Capito che camminano in macchina Per me sta lì Con la fotografia mi incopso giù Mi guardano a me con quanto camminano Ma che fanno? Ma perchè Ma perchè C'è l'antelonno? E' facile Tec'è l'antelonno Perchè l'antelonno C'è l'antelonno C'è l'antelonno Ma come si chiama? C'è l'antelonno Perchè C'è l'antelonno Perchè C'è l'antelonno Perchè C'è l'antelonno